Dieta digiuno intermittente 16-8 per l'estate. Benvenuti o bentornati sul canale Nutrizione per la Salute, sono il dottor Orecchio Gennaro, biologo nutrizionista. Se non hai mai fatto un tipo di digiuno intermittente, inizia con un approccio graduale, con uno schema 12-12 o con una forma di time-restricted eating. Schema 12-12 Il digiuno intermittente 12-12 è un approccio meno restrittivo del 16-8, che prevede di digiunare per 12 ore e di mangiare durante le restanti 12 ore della giornata. Questo schema è un buon punto di partenza per abituarsi all'idea di limitare il periodo di alimentazione. Esempio di schema 12-12, periodo di alimentazione dalle 8 alle 20, periodo di digiuno dalle 20 alle 8. Vantaggi del 12-12 È più facile da seguire, soprattutto per chi è abituato a mangiare frequentemente durante la giornata. Riduce la tentazione di spuntini dottorne che spesso sono meno sani. Abitua gradualmente il corpo a periodi più lunghi di digiuno, preparandolo per schemi più avanzati come il 16-8. Time Restricted Eating Il Time Restricted Eating è una forma di digiuno intermittente che limita l'alimentazione a una finestra temporale specifica ogni giorno. Lo schema può variare in base alle preferenze individuali e agli obiettivi di salute. Iniziare con un periodo di alimentazione di 10 ore e aumentare gradualmente il periodo di digiuno può essere un buon metodo. Esempio di Time Restricted Eating Inizio Finestra di alimentazione di 10 ore, periodo di alimentazione 8 dalle 8 alle 18, periodo di digiuno dalle 18 alle 8. Dopo 1-2 settimane, finestra di alimentazione di 8 ore, periodo di alimentazione dalle 10 alle 18, periodo di digiuno dalle 18 alle 10. Vantaggi del Time Restricted Eating Permette una transizione graduale verso periodi di digiuno più lunghi, offre flessibilità per adattarsi agli orari di lavoro e alle routine personali. Favorisce una regolazione del ritmo circadiano, migliorando il sonno e la digestione. Vantaggi del digiuno intermittente 16-8 Perdita di peso e grasso corporeo Il digiuno intermittente può aiutare a ridurre l'apporto calorico totale, poiché il numero di ore in cui si mangia è ridotto. Questo può portare a una perdita di peso e a una diminuzione del grasso corporeo. Inoltre il digiuno può aumentare i livelli di noradrenalina, un ormone che aiuta a bruciare i grassi. Miglioramento della sensibilità all'insulina Il digiuno intermittente può migliorare la sensibilità all'insulina, riducendo i livelli di zucchero nel sangue e il rischio di diabete tipo 2. Questo è particolarmente importante per le persone con resistenza all'insulina o prediabete. Il digiuno intermittente può ridurre i fattori di rischio associati alle malattie cardiache come i livelli di colesterolo LDL, colesterolo cattivo, i trigliceridi nel sangue e l'infiammazione. Alcuni studi suggeriscono che il digiuno intermittente può migliorare la salute del cuore e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Miglioramento della salute cerebrale Il digiuno intermittente 16-8 può aumentare i livelli di una proteina chiamata fattore neurotrofico derivato dal cervello, che è importante per la salute e la crescita delle cellule cerebrali. Inoltre può ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Longevità e protezione contro le malattie croniche Alcuni studi suggeriscono che il digiuno intermittente può aumentare la durata della vita, riducendo l'infiammazione e migliorando vari marcatori di salute. Potrebbe proteggere contro malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache. Miglioramento del metabolismo Il digiuno intermittente può aumentare i livelli di ormone della crescita, che è essenziale per la crescita muscolare e la perdita di grasso. Può anche migliorare la riparazione cellulare e i processi di autofagia, che aiutano a rimuovere le cellule danneggiate e a rigenerare nuove cellule sane. Semplificazione del piano alimentare Il digiuno intermittente può semplificare la pianificazione dei pasti e ridurre il numero di decisioni alimentari da prendere ogni giorno. Questo può rendere più facile mantenere un'alimentazione sana e bilanciata. Sebbene il digiuno intermittente offra molti potenziali benefici, non è adatto a tutti. È importante consultare un medico o un biologo nutrizionista prima di iniziare, soprattutto per chi ha condizioni mediche preesistenti o assume farmaci. È essenziale eseguire un'alimentazione equilibrata nutriente durante i periodi di alimentazione per garantire che il corpo riceva tutti i nutrienti necessari. La pratica del digiuno intermittente 16-8 consiste nel digiunare per 16 ore e concentrare l'assunzione di cibo in una finestra di 8 ore. È importante garantire che durante il periodo di alimentazione vengano consumati pasti nutrienti e ben bilanciati per soddisfare le necessità nutrizionali dell'organismo. Obiettivi nutrizionali. Riduzione del peso corporeo, miglioramento della salute metabolica, aumento del benessere generale. Schema alimentare per digiuno intermittente 16-8. Una settimana da praticare o una settimana al mese o due giorni alla settimana. Un periodo di digiuno di 16 ore, dalle 16 alle 8 del giorno successivo. Durante questo periodo si possono consumare solo bevande senza calorie come acqua, tè, non zuccherato, tisane o caffè nero. Periodo di alimentazione 8 ore, dalle 8 alle 16. Esempio di piano alimentare. Colazione alle ore 8, una tazza di yogurt greco magro con un cucchiaio di miele, una mangiata di frutto di bosco, una fetta di pane integrale con un cucchiaino di burro di mandorle, un bicchiere d'acqua a tè verde. Spuntino mattutino ore 10 e 30, un frutto fresco come una mela o una banana, 10 mandorle non salate. Pranzo ore 12 e 30, insalata mista con verdure di stagione, condito con olio extravergine di oliva e aceto di mele o di vino. Petto di pollo grigliato o tofu, una porzione di quinoa o riso integrale. Spuntino pomerigliano ore 15 e 30, una tazza di carota e sedano con hummus, un piccolo smoothie a base di latte vegetale, spinaci, banana e un po' di semi di chia. Schema alimentare che va per digiuno intermittente 16-8, che va dalle 20, il periodo di digiuno che va dalle 20 alle 12 del giorno successivo. Durante questo periodo si possono consumare solo bevante senza calorie, come acqua, tè, non zuccherato, risano e caffè nero. Il periodo di alimentazione invece in questo secondo caso va dalle 12 alle 20. Un esempio di piano alimentare è il pranzo alle ore 12, insalata mista con verdure di stagione, condita con olio extravergine di oliva e aceto di mele, 120 grammi di petto di pollo grigliato, una fetta di pane integrale, spuntino pomerigliano ore 15, uno yogurt greco magro, una porzione di frutta fresca con una mela o una pera, la cena, zuppa di verdure, o cena ore 18 e 30, zuppa di verdure senza patate, pesce al forno come merluzzo e il salmone, verdure al vapore come broccoli e carote, una porzione di legumi con 50 grammi di lenticchie. Spuntino serale, 10 mandorle non salate. Linea guida generale, consumare una varietà di alimenti per garantire l'assunzione di tutti i nutrienti necessari, evitare il consumo di zuccheri aggiunti, grassi saturi e alimenti altamente processati. Assicurarsi di bere almeno 30 ml per kg di peso corporeo di acqua al giorno per mantenere una buona irratazione. Monitorare il peso e la composizione corporea regolarmente per valutare i progressi e apportare eventuali aggiustamenti. Consultare periodicamente il biologo nutrizionista per valutare la salute generale e adattare il piano alimentare alle specifiche esigenze. La dieta del digiuno intermittente 16-8 è controindicata per le donne in gravidanza o allattamento, persone con disturbi alimentari, persone con diabete, persone con problemi di salute cronici, persone sotto peso o con carenze nutrizionali, bambini e adolescenti, anziani con fragilità, persone che assumono farmaci che richiedono il cibo. Disclaimer, gli articoli e i contenuti gratuiti forniti sono destinati esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non intendono sostituirsi alla consulenza del medico o del biologo nutrizionista. Grazie per aver seguito questo episodio fino alla fine, spero che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande o volete condividere la vostra esperienza lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti sulla nutrizione e la salute. Seguitemi anche sui miei profili social per ulteriori consigli e aggiornamenti. Sul mio blog trovate l'articolo completo di questo episodio. Vi auguro una giornata sana e felice. A presto.